Basta di un pochino. Vai. Sabini Benedetta, punto 1, qualificazione, micro 4 da auto, scarico. 2018. 2018. Judge Francesco Fiorenza. Dopo vediamo il bilanciere. Ok. Quando sei pronta hai 3 secondi dal momento che mi dai l'ok. Preferisci la musica? 3 secondi dal momento che mi dai l'ok. 3, 2, 1, via! 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 3, 2, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 1, via! 3, 2, 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 via! 4, via! 3, 2, via! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 20 secondi. 10. 20. 25. Dai, 10 secondi. Dai, dai, dai. 41, dai. Stop. Bravo. Bravo. Aspetta, aspetta. Dobbiamo far vedere il bilanciere un attimo al volo. Saluta. Tranquil. Papà. Non è qui, buoni. Saluta. Grazie.